Simone Tomassini firma il suo primo contratto discografico con la bollicine. La storica etichetta di Vasco Rossi. Grazie a Enrico Rovelli che si avvicina a Simone e ne diventa il suo manager. Debutta al Festival di Sanremo 2004 con è stato tanto tempo fa. Partecipa a tre appuntamenti del Festival Bar con Il Mondo che non c'è. Apre inoltre tutti i concerti del Buoni o Cattivi Tour 2004 di Vasco Rossi con il quale scrive. Giorni. Titolo del suo primo album Giorni. E dà il via alla Giorni Tours. Nel 2005, negli studi della bollicine, registra il suo secondo album Buon Viaggio. Partecipa alla seconda edizione di Music Farm. Classificandosi terzo in una gara che vede sfidarsi undici cantanti famosi. Il 27 maggio 2005 esce il secondo album di Simone. Buon Viaggio. Trainato da quando sei ragazzo. Segue il Buon Viaggio Tour. Contemporaneamente apre ancora una volta le date del Buoni o Cattivi Tour 2005. Partecipa a due tappe del Festival Bar 2005. Al Team Tour 2005 e a diversi eventi organizzati dai principali network radiofonici. In seguito viene pubblicato il DVD Simone Live 05 Alcatraz Milano. A maggio 2006. Con la produzione artistica e gli arrangiamenti di Vince Tempera. Pubblica il suo terzo album. Sesso gioia rock and roll. Nel frattempo la canzone Fuori come un balcone viene scelta da Jerry Cala come colonna sonora del. Suo ultimo film Vita Smeralda. Per i primi tre album si è firmato semplicemente Simone. A maggio 2007 esce Niente da perdere. A settembre dello stesso anno viene richiamato da Vasco Rossi. Questa volta in qualità di ospite del suo tour. Nel dicembre 2008 esce Va tutto bene. Nello stesso anno inoltre partecipa insieme alla nazionale italiana cantante a interpretare uno su. Mille. La canzone del sole. La forza della vita e si può dare di più. Brani utilizzati in operazioni benefiche. A tre anni dall'uscita di Niente da perdere. A novembre 2010 esce il nuovo singolo Ho scritto una canzone. Il 29 aprile 2011 inizia la trasmissione radiofonica del singolo Caduta Libera. Chi anticipa l'uscita del quarto album Simone Tomassini. Prevista per le 11 maggio 2011. Nello stesso giorno parte il Sempre in Tour. Nello stesso mese è anche autore del brano Sei amore cantato da Paolo Meneguzzi. Le 11 maggio 2011 esce il quarto album ufficiale autoprodotto Simone Tomassini. Il 26 giugno esce, solo in versione digitale per il mercato di lingua spagnola. L'album D.T., che contiene solo le canzoni in spagnolo presentate nel precedente album, a cui si aggiunge la versione unplugged di D.T. Il 10 novembre 2011 è uscito il suo primo libro dal titolo Confessioni. Di un pazzo edito da Rupe Mutevole. L.8 dicembre esce Epic's Mass War is Over. Tributo a John Lennon. Durante il 2012 Tomassini è impegnato con il Sempre in Tour. L.8 dicembre pubblica il singolo Spero Davvero. Durante l'estate il singolo La Ferrari è lei. In uscita mondiale il 29 marzo. Che conquista tutte le radio sbancando anche su YouTube. Dove in pochi mesi supera il milione di visualizzazioni. Con il suo amico Paolo Meneguzzi. Nel 2015 è protagonista di un concerto per i ragazzi disabili della Rosa Blu. Una causa che lo vede coinvolto da molti anni e che nel 2013 lo ha portato a registrare dal vivo. Presso la palestra della loro struttura Antifa Sagrandola ed Uniti. L'album, distribuito in formato CD e download digitale. Comprende anche Immagine e No Kind in Evans Door. Dove Simone Tomassini duetta con i ragazzi. L.8 dicembre 2015. A distanza di 11 anni dal suo debutto. Simone torna con il nuovo singolo Solo cose belle. Che anticipa l'album Cancelletto Felice. Uscito nel marzo 2016. Uscito nel marzo 2016. Uscito nel marzo 2020.